Salve, benvenuti in Dr. Spike. Oggi vi presentiamo una microcamera occultata in un paio di occhiali da vista. Questi occhiali montano una microcamera in alta risoluzione full HD, audio video, lettura, testi. Significa che questa telecamera, oltre a darvi la possibilità panoramica, quindi di vedere l'ambiente in cui si trova, vi dà anche la possibilità di leggere scritte sia su un foglio che su un monitor, a una distanza dai 30 cm in su, in base alla grandezza dei fogli. Il dispositivo ha una batteria con un'autonomia di 2 ore e ha anche la possibilità di registrare direttamente su una memoria che si può inserire qui. Il dispositivo è un dispositivo professionale, dalle grandi capacità, perché come abbiamo detto ha telecamera lettura testi. Questo è molto comodo nel caso in cui dobbiamo leggere un testo o un monitor. Il dispositivo è in vendita presso il negozio Dr. Spy o direttamente sul nostro sito. Vi ringraziamo per averci seguito, ci vediamo al prossimo video.